Ritorno ad attualità il problema sicurezza nelle zone periferiche del territorio di Ponte Cagnano-Faiano. A lanciare l'allarme i residenti di Baroncino, Trivio Granata e delle aree a confine con il comune di Monte Corvino Pugliano, preoccupati per l'escalation di furti registrata in queste settimane. Nel mirino dei ladri attrezzature agricole, carburante, automobili ed oggetti di vario tipo. Una situazione difficile per gli abitanti che nel corso dell'ultimo mese hanno presentato ben 40 denunce alle autorità preposte nella speranza che i responsabili di tali episodi vengano assicurati alla giustizia. Sulla problematica è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Lanzara che ha annunciato la convocazione in tempi brevi di un tavolo con gli organi competenti al fine di trovare una soluzione condivisa.